Musica Trapani perseguitava una ragazzina di 15 anni in manette un pensionato Giovane mazzarese arrestato per rapina impropria Omicidio Srat di Capofeto, indagini di nuovo all'appunto di partenza La Capitaneria di Porto di Mazzara regola le attività nella località Cala Spaghetti Alla Consiglio Comunale di Mazzara tengono banco le polemiche per i disagi dei cittadini Il canale di Sicilia restituisce un nuovo reperto archeologico Buon inizio di luglio e bentrovati dal Tg8 Perseguitava una quindicenne spiandola, pedinandola e facendole delle proposte indecenti Protagonista della vicenda un pensionato di 62 anni per il quale sono scattate prontamente le manette I carabinieri di Trapani hanno messo la parola fine all'incubo che tormentava una quindicenne del capoluogo La ragazza da oltre un anno era perseguitata da un uomo, 62enne, vedovo pensionato Che le riservava morbose attenzioni, pedinandola continuamente, spiandola all'uscita da scuola Avvicinandola nel supermercato sotto casa, facendole proposte indecenti Sempre rifiutate dalla piccola fino ad arrivare a palpeggiarla Le delicate indagini condotte dai militari dell'arma sono iniziate lo scorso gennaio A seguito di un intervento di una pattuglia per una lite in strada In quell'occasione il padre della vittima aveva avuto un niverbio con il presunto molestatore Accusandolo di perseguitare da tempo la propria figlia I carabinieri della stazione di Borgo Annunziata, partendo da queste dichiarazioni Hanno raccolto numerosi indizi nei confronti dell'arrestato Resosi autore di reiterate condotte moleste nei confronti della povera ragazza Tali da cagionarle un perdurante stato di ansia e paura In un'occasione l'uomo, seduto all'interno della propria autovettura Si era reso protagonista di atti sessuali allo scopo di far assistere la vittima In un'altra circostanza, invece, era arrivato perfino a bloccarle e a palparle le parti intime Nel pomeriggio del 28 giugno 2016 I carabinieri della stazione di Trapani, Borgo Annunziata, hanno arrestato il pensionato Sottoponendolo agli arresti domiciliari in esecuzione dell'ordinanza di misura cautelare Emessa dal GIP di Trapani Con l'accusa di atti persecutori, violenza sessuale e atti sessuali in presenza di minorenne Commessi nei confronti della giovane ragazza Spettacolare incidente questa notte a Marsale Accaduto nei pressi del circolo Canottieri sul lungomare poco prima dell'alba Una Focus guidata da un uomo ha perso il controllo e si è andata a schiantare contro il muro che delimita il circolo Canottieri L'auto si è distrutta nella parte anteriore Mentre il muro, come si può notare dalla foto, è stato abbattuto Il conducente è uscito miracolosamente illeso dall'impatto L'ambulanza arrivata sul posto ha portato le prime cure per il conducente Che però presentava solo qualche contusione e non ha avuto bisogno del trasporto in ospedale Sul posto sono intervenuti i militari dell'arma a rilevare il sinistro e da determinare le cause dello schianto Un giovane mazzarese è stato arrestato dalla polizia per rapina impropria ai danni di un commerciante di prodotti ITC Personale della squadra Pegaso della sezione investigativa del commissariato di Mazzara del Vallo Ha eseguito un'ordinanza applicativa della misura cautelare degli arresti domiciliari Con applicazione del braccialetto elettronico emessa dal GIP del Tribunale di Marsala A carico di Damiano Guccione, cittadino mazzarese di 29 anni Pregiudicato per svariati reati contro il patrimonio Nello specifico il provvedimento restrittivo si riferisce ad un grave fatto delettuoso avvenuto lo scorso 15 maggio 2016 In quella data Guccione si è introdotto all'interno di un magazzino di un'azienda di prodotti ITC di Mazzara per compiere un furto Tuttavia il proprietario, allertato dal sistema di allarme installato nel magazzino, ha raggiunto tempestivamente il luogo del furto Sorprendendo l'uomo mentre tentava di dileguarsi con della refurtiva ancora in mano L'autore del furto, al fine di guadagnarsi la fuga, si è visto costretto ad ingaggiare una colluttazione con la vittima del reato Riuscendo infine nel suo intento e facendo perdere le proprie tracce Nella circostanza il proprietario del magazzino ha tra l'altro riportato delle lievi lesioni personali Le indagini, subito avviate, hanno permesso il deferire alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Marsala e il Guccione per il reato di rapina impropria L'autorità giudiziaria ha richiesto al competente GIP la misura cautelare a carico dell'autore del reato Per il momento resta irrisolto l'omicidio del presunto spacciatore Riad Zrat ucciso a Capofeto nel giugno del 2010 La Procura infatti ha chiesto l'archiviazione del procedimento a carico dei 5 soggetti che nel gennaio 2015 erano stati arrestati come presunti responsabili dell'omicidio Torna al punto di partenza l'indagine relativa all'omicidio del presunto spacciatore Riad Zrat freddato con 5 colpi di pistola a Capofeto la notte del 10 giugno del 2010 Per questo omicidio nel gennaio 2015 i carabinieri di Mazzara, convinti di avere identificato i responsabili arrestarono i marsalesi Vincenzo Galia di 52 anni e Giovan Vito Romeo di 32 accompagnati in auto da Gisella Angileri di 30 anni, il mazzarese Giovan Battista Mangiaracina di 37 anni e Ib Manjou Barafet di 34. Gli ultimi due sarebbero arrivati dopo sul luogo dell'omicidio Gli arresti scattarono sulla base della testimonianza di una tossicodipendente che poi però cambiò più volte la sua versione dei fatti e per questo lo scorso settembre la Cassazione rigettò il ricorso della procura di Marsala verso il provvedimento con cui il Tribunale del Riesame di Palermo a inizio febbraio 2015 aveva riammesso in libertà i 5 arrestati Adesso l'indagine è stata azzerata su richiesta della stessa procura che ha chiesto e ottenuto dal GIP l'archiviazione del procedimento penale avviato a carico dei 5 indagati La richiesta di archiviazione è stata firmata dal PM Giulia D'Alessandro L'archiviazione, dice uno degli avvocati difensori, Diego Tranchida, era una conseguenza inevitabile attesa all'inattendibilità della testa Bonasoro che ha cambiato versione per ben 9 volte Secondo l'iniziale accusa, ad agire sarebbero stati due distinti gruppi di fuoco arrivati sul posto una zona isolata e poco illuminata per discutere gli affari relativi allo spaccio di eroina una discussione conclusa a colpi di pistola Un trattamento iperbarico ricompressivo effettuato nella camera iperbarica di Favignana dell'Asp di Trapani ha salvato una subacquea di 64 anni di Milano affetta da malattia da decompressione La paziente aveva effettuato una immersione nelle acque antistanti l'isola di Marettimo ad una profondità di circa 40 metri ed aveva accusato dei malori Prontamente inviata dalla guardia medica di Marettimo alla camera iperbarica di Favignana la paziente è stata sottoposta a trattamento iperbarico d'urgenza di circa 5 ore con esito fortunatamente positivo Dalla Capitaneria di Porto di Mazzara arrivano nuove disposizioni relative alla località balneare Cala Spaghetti patria di diportisti ma anche di tanti appassionati di sport acquatici Il comandante della Capitaneria di Porto di Mazzara Capitano di Fregata Giuseppe Giovetti ha firmato due nuove ordinanze che disciplinano l'accesso e la sosta delle unità da diporto a Cala Spaghetti nonché per svolgere l'insegnamento e la pratica del kitesurf e del windsurf in prossimità di Capofeto In particolare con l'ordinanza 20 del 2016 viene individuata per la corrente stagione balneare in via del tutto sperimentale una specifica zona di mare destinata alla sosta di unità da diporto di lunghezza inferiore a 24 metri che nel rispetto delle consuetudini locali e in deroga ai limiti di distanza dalla costa consentiti per la navigazione da diporto non ne pregiudichi la sicurezza della balneazione e degli altri usi del mare Tale esigenza nasce infatti dalla consuetudine praticata dai diportisti locali di sostare con la propria unità da diporto in un'area a ridosso del litorale di Mazzara del Vallo in località Tonnerella, Cala Spaghetti e a seconda della direzione del vento nelle acque antistanti Capofeto Con l'ordinanza 19 del 2016 è stata delimitata un'area in prossimità della costa nella quale consentire la pratica e l'insegnamento del kitesurf sport velico di recente origine e sempre maggiore diffusione a livello locale configurandosi anche quale risorsa turistica per l'intero territorio Tutto questo avviene di massima in un tratto di mare localizzato in zona Capofeto che risulta ideale per la pratica del kitesurf In entrambe le ordinanze viene ribadito che le suddette disposizioni in quanto impartite in via sperimentale e in parziale deroga a quanto contenuto nella vigente ordinanza di sicurezza balneare non precludono la facoltà di sospendere, modificare o abrogare in qualsiasi momento ciascuna ordinanza soprattutto a fronte di eventuali condotte nautiche imprudenti ovvero i responsabili che qualora posta in essere dagli stessi diportisti locali in modo sistematico e frequente rendessero non più opportuna la prosecuzione della sperimentazione in atto Ci sono voluti 30 anni ma alla fine un bene confiscato alla boss salemitano Salvatore Miceli verrà restituito alla collettività Finalmente dopo 30 anni un bene confiscato alla mafia viene restituito alla collettività 70 ettari di terreno agricolo di contrada masseria vecchia Salemi di proprietà del boss Salvatore Miceli sono stati assegnati alla cooperativa sociale Unlus Rida Adria Libera Terra Il bene era stato confiscato nel lontano 1987 ma in tutto questo tempo per un motivo o per un altro non si era riuscito ad assegnarlo L'Agenzia Nazionale per i Beni Confiscati nel 2011 quando l'amministrazione di Salemi era guidata da Vittorio Sgarbi aveva revocato l'assegnazione al Comune Secondo il contratto stipulato in Prefettura a Trapani ad occuparsi del fondo sarà la cooperativa che porta il nome della giovane testimone di giustizia di Partanna La cooperativa di Castelvetrano si occupa già di altri terreni confiscati nel Trapanese nei comuni di Castelvetrano, Partanna e Paceco Ora il terreno subirà un processo di bonifica e sarà coltivata con seminativi che seguono le strategie agricole ecocompatibili e una produzione biologica nel pieno rispetto della salute dei lavoratori e dei consumatori I prodotti saranno conferiti per la distribuzione a libera terra mediterranea un consorzio che coordina le attività produttive delle singole cooperative che la compongono Da oggi Marsala come tanti altri comuni scaricherà i rifiuti a Trapani nella discarica di Borranea lo autorizza un decreto regionale chiudendo così la momentanea parentesi di svuotamento dei mezzi a Lentini ma le notizie che giungono dal capoluogo continuano ad essere preoccupanti si parla di lunghe file di mezzi in attesa anche di giorni per scaricare rifiuti trasportati dai territori della provincia La mia preoccupazione, afferma il sindaco di Marsala Alberto Di Girolamo è che per il troppo tempo impiegato per lo scarico dei rifiuti si creeranno notevoli disagi con problemi igienico-sanitari per la città Per questo oggi incontro il prefetto ed il dirigente regionale competente per trovare delle adeguate soluzioni al problema Si è riunita a Roma la direzione nazionale del PSI uscita dal congresso tenutosi recentemente a Salerno su proposta del segretario Riccardo Nencini è stata eletta la nuova segreteria nazionale che governerà il partito nei prossimi tre anni confermato per la Sicilia il deputato trapanese Nino Oddo Solo nove punti all'ordine del giorno approvati e tante polemiche sollevate si può sintetizzare così la seduta di ieri pomeriggio del Consiglio Comunale di Mazzara Sentiamo In circa quattro ore di lavori il Consiglio Comunale di Mazzara riunitosi ieri pomeriggio ha approvato nove dei 36 punti iscritti nell'ordine del giorno Interventi di un certo rilievo si sono registrati tra le comunicazioni in cui i consiglieri della maggioranza e dell'opposizione hanno sottolineato i disagi che vivono i cittadini di Mazzara per una serie di problemi a cominciare dai rifiuti che sono ammassati sulle strade della città Alcuni consiglieri hanno chiesto l'urgente disinfestazione delle spiagge altri hanno sollevato i problemi legati alla circolazione stradale e in particolare all'autovelox che la Polizia Municipale ha piazzato in alcune strade di lunga percorrenza Infine non potevano mancare gli interventi sui tempi lunghi che si registrano per il dragaggio del porto Da registrare infine un attacco del Consigliere Comunale Giuseppe Giacalone nei confronti dell'assessore Adele Spagnolo che secondo il Consigliere sarebbe inefficiente nel ruolo che esercita Il Presidente del Consiglio ha letto la relazione annuale dei lavori svolti anche dalle commissioni consigliari per l'anno 2014-2015 Infine sono state approvate tre mozioni e un ordine del giorno concernente la tutela e la pulizia dell'Oasi Capofeto Dell'amministrazione comunale erano presenti gli assessori Vito Ballatore e Silvano Bonanno che ha risposto a qualche quesito posto dai consiglieri Dal 2 luglio al 27 agosto 2016 gli uffici comunali di Mazzara osserveranno l'orario di servizio dal lunedì al venerdì dalle ore 8 alle ore 14 La modifica temporanea dell'orario di servizio con la sospensione dell'attività lavorativa nella giornata del sabato nel periodo indicato è stata disposta con propria determinazione la numero 101 dal sindaco di Mazzara del Vallo Nicola Cristaldi sulla base di una richiesta dei dirigenti comunali considerato che nel periodo estivo nelle giornate di sabato si registra uno scarso afflusso di cittadini ed utenti rimangono esclusi dalla temporanea modifica dell'orario di servizio e pertanto continueranno ad essere in servizio anche nei sabati oltre che nei festivi i presidi museali e turistici, i servizi cimiteriali, il servizio tecnico manutentivo e la polizia municipale Il sindacalista mazzarese Vito Gancitano torna a parlare della questione ospedale chiede tempi certi per la riapertura e diffida dalle rassicurazioni di quelli che egli stesso definisce i signori della politica Il sindacato CGL, Camera del Lavoro di Mazzara, con una nota a firma di Vito Gancitano ritorna sul problema dell'ospedale Abele Aiello e chiede che si stabiliscano tempi certi e non più dilazionabili per l'apertura della nuova struttura ospedaliera possibilmente non in coincidenza con l'apertura della campagna elettorale per il rinnovo dell'Assemblea regionale e per l'elezione del Presidente della Regione CGL manifesta anche la preoccupazione per la qualità dei servizi che saranno allocati nel nuovo ospedale Diffidiamo, scrive Gancitano, di chi, in mala fede, continua a minimizzare l'importanza e la differenza tra una struttura complessa e una struttura semplice o dipartimentale Ci riferiamo certamente all'unità di radioterapia, ma non solo Un ospedale di altissimo livello e di nuova costruzione il cui costo complessivo è superiore ai 40 milioni di euro deve essere la sede naturale di tante altre specialità complesse Come questo possa conciliarsi con i parametri stabiliti dalle direttive nazionali è un problema che sicuramente i signori della politica sapranno risolvere considerato che continuano a promettere tutto a tutti Nella nota CGL scrive di diffidare anche delle rassicurazioni del Direttore Generale dell'Aspi di Trapani e dell'Assessore regionale alla salute in ordine all'accorpamento funzionale dei reparti di cardiologia di Mazzara e Castelvetrano considerato che non c'è alcuna evidenza empirica nemmeno in paesi o regioni che hanno già da lungo tempo praticato tale procedura che attraverso tale strumento si possano risolvere i problemi di una maggiore funzionalità e di una migliore qualità del servizio svolto né che possa tale strumento rappresentare una risposta utile per risolvere il problema della turnazione, della gestione degli orari e della fruizione delle ferie Giancitano segnala quindi il rischio che l'accorpamento possa essere definitivo nelle intenzioni di chi lo ha predisposto e abbia come fine la necessità di alimentare forme di clientela e di discutibili aspirazioni Mazzara non può e non deve avere un ospedale di lunga degenza con annesso un pronto soccorso come centro di smistamento per altri presidi ospedalieri più influenti politicamente Per non correre questo rischio sollecitiamo l'amministrazione comunale il consiglio comunale e le forze politiche mazzaresi affinché si liberino di ogni forma di servilismo o di dormienza Le criticità nelle strutture sanitarie del territorio trapanese sono state al centro dell'incontro che l'ordine dei medici di Trapani ha tenuto con l'assessore regionale alla salute Baldo Bucciardi Nel corso dell'incontro il presidente dell'ordine Rino Ferrari ed il vicepresidente Vito Barraco hanno illustrato le annose questioni ancora risolte legate prima di tutto alla carenza di risorse umane negli ospedali cittadini Fra le questioni per cui è necessaria un'immediata soluzione l'ordine ha inoltre evidenziato l'immissione al ruolo dei dirigenti medici che pur avendo vinto il concorso attendono la nomina da diversi anni Una convenzione è stata siglata fra il direttore del Policlinico Universitario di Palermo Renato Lidoni ed il direttore generale dell'azienda sanitaria provinciale di Trapani Fabrizio De Nicola per l'avvio di un poliambulatorio specialistico di neurochirurgia spinale in provincia di Trapani Il presidio ospedaliero individuato è stato il Paolo Borsellino di Marsala che vedrà quindi incrementare i servizi specialistici offerti dalla struttura La nuova attività sarà presentata lunedì alle ore 16 all'annoso comio di Contrada Cardilla dalla direttore generale dell'ASPA De Nicola dal professor Gerardo Jacopino che coordinerà l'equip di neurochirurghi messi a disposizione dal Policlinico e dal direttore sanitario dell'ospedale di Marsala Maria Carmela Riggio La CNA di Mazzara sottolinea i disagi vissuti dagli operatori dell'artigianato provinciale da mesi in attesa di risposte Il mancato rinnovo o superamento della commissione provinciale dell'artigianato presso la Camera di Commercio di Trapani è stato al centro di un incontro alla CNA di Mazzara Confederazione Nazionale dell'Artigianato e Piccola Impresa tra il portavoce Nicola Giacalone e il deputato Sergio Tancredi cui ha partecipato il segretario provinciale Luigi Giacalone Infatti l'originaria commissione è scaduta il 15 marzo scorso e non è mai stata rinnovata né superata nel senso che non è stata abolita come molti richiedono alla Regione determinando gravi ritardi e problemi ai circa 300 aspiranti imprenditori che hanno nel frattempo presentato varie istanze alla Camera di Commercio di Trapani Infatti se per intraprendere in tutti gli altri settori economici è sufficiente avendone i requisiti presentare istanza agli uffici della Camera di Commercio per essere trattata Invece per gli artigiani le istanze vengono esitate da una commissione provinciale sempre presso la Camera di Commercio Per molti versi desueta e che non ha più alcuna ragione di esistere determinando nel migliore dei casi lentezze e ritardi e in questo caso di mancanza della commissione la paralisi più totale Il fatto grave, afferma Nicola Giacalone è che il problema è stato sin qui preso troppo sotto gamba da chi di dovere determinando una paralisi evitabile quanto intollerabile quando appunto il lavoro e la creazione di nuove imprese dovrebbe costituire la priorità per tutti in primis della Regione che dovrebbe procedere come di competenza alla risoluzione rapida del problema L'onorevole Sergio Tancredi ha assunto l'impegno di interrogare il Governo e di seguire l'incredibile vicenda Mazzara sostiene la candidatura a Patrimonio dell'Umanità Unesco del sito Selinunte e la Corà Selinuntina lo ha detto il sindaco Nicola Cristaldi La candidatura sarà ufficializzata nel pomeriggio di oggi alle cave di Cusa di Campobello di Mazzara dove diversi comuni sigleranno la dichiarazione di intenti di proposizione della candidatura Questa mattina nel Collegio dei Gesuiti di Mazzara il sindaco Cristaldi ha incontrato il commissario Unesco ambasciatore Raimond Bondin in visita in città accompagnato da Maria Luisa Zerilli della proloco Costa di Cusa e da una delegazione del club Unesco di Castelvetrano formata da Angelo Curti Giardina, Nicola Miceli ed Attilio Bandiera Nel corso del cordiale incontro il sindaco Cristaldi ha sottolineato la vocazione multiculturale e multietnica della città di Mazzara del Vallo ed ha poi donato al commissario Unesco il crest della città La delegazione Unesco ha quindi visitato il Museo del Satiro ed il centro storico della città di Mazzara Dal canale di Sicilia intanto continuano ad affiorare reperti artistici di immenso valore proprio qualche giorno fa l'ultimo regalo dal mare Il canale di Sicilia è un serbatoio inesauribile di reperti artistici ed archeologici quest'ultimo ritrovamento alla dimostrazione della obbligatorietà della realizzazione di un progetto basato sulla scoperta e sul ritrovamento di testimonianza del passato che possono essere il futuro economico della nostra isola Motivo di orgoglio inoltre è l'apprendere che anche questo reperto che si aggiunge al più famoso satiro è dovuto all'attenzione dei nostri marinai confermando l'attitudine degli operatori della pesca al rispetto dei tesori nascosti in fondo al mare Lo ha detto il sindaco Nicola Cristaldi dando notizia che nel canale di Sicilia è stato ripescato un oggetto bronzio l'oggetto di circa 60 cm di lunghezza e dalla forma non ancora ben definita è stato pescato dal pescareccio Gisteroda della famiglia Ingargiola durante una battuta di pesca nel Mediterraneo Il reperto è stato consegnato dall'armatore dell'imbarcazione al Museo del Satiro che ha affrontamente avvisato la soprintendenza del mare che ha già predisposto lo spostamento del reperto per il restauro Il reperto sarà adesso trasferito presso il laboratorio di Trapani per essere sottoposto al restauro e solo dopo, ha dichiarato l'archeologa dottoressa Oliveri della soprintendenza del mare sapremo essere più precisi sul tipo di oggetto ripescato e al periodo risalente Al termine delle operazioni di restauro il soprintendente Sebastiano Tusa rilascerà un comunicato ufficiale sulla scoperta Teniamo presente che il mare mediterraneo ha concluso l'archeologo e il canale Sicilia in particolare si conferma mare ricco di reperti dal valore inestimabile Mancano poco più di 20 giorni alla terza edizione dei giorni del gambero la cremessa mazzarese che coniuga spettacolo e street food al via la terza edizione dei giorni del gambero che si terrà a Mazzara del Vallo nei giorni 22, 23 e 24 luglio 2016 all'interno degli ampi spazi del Mara Hotel saranno tre giorni di festa con spettacoli serali di intrattenimento musicale di alto livello accompagnati da street food in onore del principe del Mediterraneo il gambero rosso di cui la marineria di Mazzara è leader nazionale l'evento promosso da Innovazione e Cultura associazione senza fini di lucro per lo sviluppo del territorio e dei prodotti tipici presieduta da Antonino San Martano è patrocinato e sostenuto dalla città di Mazzara del Vallo e dalla regione siciliana assessorato al turismo e mira non solo a valorizzare il prodotto tipico per eccellenza ovvero il gambero rosso ma renderlo anche messaggio nazionale ed internazionale per lo sviluppo del turismo della città ed attrattivo anche per lo sviluppo dell'indotto locale l'evento sarà preceduto il giorno 21 luglio 2016 alle 17.30 da un importante convegno nazionale presso il Mahara Hotel coordinato dal giornalista scrittore Attilio Vinci al quale parteciperanno importanti ospiti che relazioneranno non solo sul sistema di pesca e della conservazione del prodotto ma anche e soprattutto sulle qualità organolettiche e nutrizionali del gambero rosso non solo per i grandi ma anche per i bambini saranno tre giorni in cui non mancheranno i piatti prelibati presentati da importanti chef che cucineranno gustose pietanze a base di gambero piatti che saranno votati da una giuria qualificata che decreterà il piatto che avrà incontrato i favori non solo dei giudici ma anche del pubblico la festa del gambero come è stata chiamata la manifestazione anche negli anni precedenti sarà aperta al pubblico che potrà apprezzare nelle ore serali la preparazione dei piatti chiedere ricette conversare con gli chef e infine assistere a spettacoli di grande richiamo per gli artisti che si esibiranno il programma nei suoi dettagli sarà presentato nei prossimi giorni al Mahara Hotel domani alle 11 presso la Sala Labruna del Collegio dei Gesuiti verrà ufficialmente consegnata la bandiera delle europeadi alla città di Mazzara del Vallo nel corso della cerimonia sarà presentata alla stampa e alle autorità civili locali la manifestazione sportiva non competitiva organizzata dalla Federazione Internazionale degli Sport Popolari presieduta dall'italiano Giuseppe Colantonio e dalla Confederazione Europea degli Sport Popolari che dal 23 al 27 maggio 2018 si svolgerà nelle città di Mazzara del Vallo e Castelvetrano Selinunte fino al prossimo 4 luglio a Favignana si terrà la manifestazione John Experience evento musicale internazionale che coinvolge diversi artisti e produttori provenienti da tutto il mondo la più grande delle isole Egadi sarà per il secondo anno consecutivo una suggestiva location di musica sole e sapori siciliani per allietare i numerosi turisti e non in una cornice di grande divertimento dove numerosi sono gli appuntamenti in programma gli artisti che hanno già confermato la loro presenza sono Mike Acabi degli States Mr. Raul K dalla Germania Greg Gauthier e Afshin dalla Francia e per l'Italia DJ Bivona El Nino e Ciccio Barbara un'arena gialla costruita con 200 balle di paglia e un palcoscenico naturale immerso nel verde che circonda la diga bagliata e la rassegna di teatro in campagna denominato Appagiorum che prenderà il via il 4 luglio alle ore 21.30 il progetto artistico rurale promosso dall'associazione culturale spazio onirico e da 91.027 ecosistema APE agricoltura pulita ed etica propone sei appuntamenti serali che dal 4 luglio al 3 agosto a partire dalle 21.30 vedranno in scena prosa teatrale danza musica e installazioni si inizierà il 4 luglio con la ballata di Van Gogh spettacolo di e con Marco Bianchini artista del teatro della caduta di Torino nella suggestiva piazza mercato del pesce nel cuore di Trapani torna a stragusto la festa del cibo da strada e dei mercati giunta alla sua ottava edizione cinquentesi giorni dal 27 al 31 luglio 2016 in cui si potrà percorrere un ideale giro del mondo attraverso il cibo da strada conoscendo diverse culture e tradizioni regionali in un'atmosfera unica tipica degli antichi mercati un evento imperdibile che accoglie i sapori del mondo dello street food con le sue tradizioni ma anche con le sue innovazioni perché il cibo di strada si evolve insieme alle abitudini e ai gusti dei popoli spazio allo sport questa sera alle ore 20 allo stadio Nino Vaccara di Mazzara del Vallo si terrà un triangolare di calcio in memoria di Antonino De Vita il giovane calciatore di Mazzara e Marsala scomparso prematuramente in un incidente stradale un mese fa in campo si scontreranno una selezione di giovani calciatori italiani una selezione di calciatori stranieri ed un'altra formazione costituita dagli amici di Nino è prevista anche una raccolta fondi che verrà poi devoluta alla famiglia per informazioni è possibile rivolgersi al bar stadio passiamo al volley la sigel Palavolo Marsala rifarà la serie B1 niente ripescaggio o acquisizioni di titolo sono stati giorni frenetici e sicuramente di grande riflessione afferma il presidente Massimo a loro tuttavia ci hanno consentito di valutare per bene il percorso da seguire nell'immediato futuro ovviamente se avessimo conquistato la serie superiore sul campo c'erano delle responsabilità etico-sportive di cui tener conto altro è il procedere ad un possibile ripescaggio o all'acquisizione di un titolo di A2 da dirigenti responsabili quali siamo abbiamo preferito riordinare le casse della società con l'obiettivo fermo di lavorare per realizzare una squadra forte e competitiva nella serie di nostra competenza proseguiamo con il volley ma parliamo del trofeo delle regioni ancora una volta ieri la Sicilia è stata la sorpresa della giornata la squadra di mister Maurizio Garozzo dopo la vittoria nel primo match del giorno contro la Liguria per 3 a 0 bastava un solo punto contro il Lazio per accedere alle semifinali punto arrivato al primo set è chiuso con il punteggio di 21-18 che ha fatto scattare la festa in casa siciliana appuntamento a questo pomeriggio per la semifinale contro il Veneto finalista lo scorso anno mentre l'altra finalista uscirà dallo scontro fra la regione Piemonte e la regione Lombardia con un grosso in bocca al lupo alla selezione siciliana si chiude questa edizione del nostro notiziario prossimo appuntamento domani come sempre alle 14 buon pomeriggio prossimo appuntamento prossimo appuntamento Grazie a tutti.